bella sirvà bella faiarù tutto a porno? è regolare ma che me racconti vecchio figlio della c***a? e che c***o ti devo dire? sempre i soliti c***o porta a c***o di tua... senti ma quante c***o di tua c***a fa sempre i b***i a 2 euro? o mo li fa in euro? veramente mo te paga lei? che m***a ma scusa mi senti pure te sti i bip? e te credo servino per coprire i panomacce ma che c***o li ha messi sti c***o di bip? e' al governo nuovo per i piedi voti dei vecchi rinc***o uniti e dei cattolici de m***a hanno fatto sta legge del c***o si mortisci ora e te sti fi della mia c***a sbutellata in c***o hai capito sti quattro st***o? ci stamo una m***a fino al collo ma quindi non posso più di f***a c***o sb***a st***o c***o bocchino eh no no però c'è un trucco devi modifica le parolacce modifica le parolacce? si si senti qua mi raccomando eh quella è proprio una testa di razzo li portacci sua nooo geniale e' un difetto del software e l'ha fatta la microsoft e' regolare ecco perchè meno male porca pignotta ah vedo che hai capito vecchio rotto in tulo certo non so belle come quelle originali però ma sti pazzi che pazzo te frega tanto il senso è quello ma si si c'è ragione però aspetta ne vien dubbio mmm puro a me questi ancora non l'hanno censurati meno male ma e' un po' più quesda è un baffan*****o e' un buon po- e' un po- e' un po- e' un po' come si c***o e' un po' come si c***o e' un po' s- Grazie a tutti.